E' tempo di bilanci il giorno dopo le votazioni politiche sia nazionali che regionali avvenute nella tornata elettorale di ieri. Ne abbiamo parlato con alcuni cittadini di cosa pensano, delle loro reazioni e le loro aspettative. Ci aspettiamo che mantengono intanto le promesse che hanno fatto. Io spero che si riprendi un po' anche a lavorare, che secondo me chiuderanno un bel po' di attività fra un po'. Dovrebbero aiutare anche i giovani disoccupati. Un cambiamento radicale, sperando in bene, che porti qualcosa di positivo e che soprattutto per la nostra città. Ciò che decide il popolo, a mio avviso, è la cosa giusta. Siamo fiduciosi, soprattutto a livello nazionale, che la Meloni possa fare qualcosa per le partite IVA. In particolare nel programma di governo sono previste una serie di agevolazioni che potranno dare un aiuto, un contributo alle nostre attività, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni con degli sgravi o ancora una riduzione delle tasse. Quindi tutto sommato siamo fiduciosi e speranzosi che le cose possono migliorare.